Tutti i punti sono cardinali, al nord volto le spalle e inclino anche la testa, all'indietro al vento un po' freddo delle solitudini archetipiche, degli interni caldi circondati da distese vaste e silenzi dove il fuoco è uno unico, al vivo contrasto incontrastato. Altrove sì, guardo ogni tanto al rigoglioso sud, o mi aggiro, sfrondando nei giardini vari formi, vari opinti, eppure sotto un unico sole di cui dicono nasce sempre a oriente e viaggia a morire in occidente. Io lo sento sulla pelle da dietro, conciliante richiamo. Dovunque mi trovi è unica la direzione verso l'interno, antica, comune, e ce n'è tante quanti nuovi punti, lontani tutt'attorno, quelli che solo, sola, posso eventualmente occupare. Non so la mia appartenenza, se non a questa posizione, ne mi curo d'altro.